amiche amici del corner Sampdoriano bentornati intanto mi scuso per l'assenza del video dopo il match contro la Salernitana era stato quello Pasquale un weekend molto molto intenso non ho avuto il tempo materiale di farlo dopodiché la sincerità che ci lega eh mi fa dire anche che probabilmente anche se avessi avuto il tempo non l'avrei fatto perché era veramente impegnativo eh approcciare quella gara che forse parzialmente la Sampdoria mette da parte dimentica dopo l'uno l'uno a uno del ventegodi dibattito che potrebbe aprirsi è un pareggio buono o non è un pareggio buono non lo so il sapore i sapori che ho al termine di questa gara sono contrastanti mi verrebbe da dire che i motivi per prendere con buon umore questo risultato sono innanzitutto l'avversario che arrivava da un gran momento di forma una squadra lanciata che stava bene che aveva vinto a Bergamo che ho visto nel girone di ritorno è quinta se non sbaglio sesta per punti fatti ne ha fatti venticinque nel girone di ritorno il Milan che ne ha fatti di più ne ha fatti ventinove quindi insomma è un Verona che sta correndo e molto eh in questo duemila e ventidue è un pareggio con anche un po' di retrogusto amaro sicuramente sì penso prevalga questo sentimento perché perché la Sandorio è andata in vantaggio nel primo tempo e non sembrava essere in difficoltà nella ripresa pur avendo disputato l'ennesima prestazione diciamo trascurabile e dimenticabile se non altro non memorabile di questo campionato e soprattutto perché proprio per come si era messa la partita era una era un erano tre punti a quel momento in quel momento da portare a casa visto che il calendario che si prospetta che ci a maggio fa tecnicamente schifo nel senso che dopo la prossima gara che tutti voi sapete qual è ne arrivano altre in cui è molto complicato a pensare di fare punti è vero che il cuscinetto di più otto momentaneo ora vediamo come andranno le gare di domani in teoria è buono è ampio però è vero che bisogna fare dei punti in queste quattro gare che restano oltre al derby ci sono la Lazio che sappiamo storicamente essere un cliente sostanzialmente inaccessibile per la Sampdoria eh nella storia recente l'Inter a San Siro peraltro e la Fiorentina in casa eh non in quest'ordine prima la Fiorentina poi l'Italia ma insomma vabbè non è importante l'importante è insomma sappiamo tutti che questa squadra ha dimostrato di fare molta fatica a fare punti con chiunque e sembrava oggi la Sampdoria di un girone fa e un girone fa l'allenatore era un altro abbiamo rivisto tante cose la prima che mi è balzata all'occhio che mi ha fatto tornare con la mente a una ventina di partite fa o comunque la parte finale del duemilaventuno lo schema principale cioè il lancio lungo per Morten Tortby così la Sampdoria è riuscita in una delle pochissime occasioni a entrare nell'area di rigore del Verona a guadagnarsi rigore con Caputo che poi l'ha trasformato dopo averlo sbagliato ma insomma è stato fortunato dopo la spinta di Montipò poco altro abbiamo visto a livello di proposta offensiva notavo che era anche campo bagnato pioveva situazione che teoricamente esaltava lo stile di gioco dell'Ellas di Tudor a uomo molto aggressivo eccetera eccetera abbiamo visto una Sampdoria che i i passaggi la sotterra li ha fatti tutti praticamente indietro qualcuno in un orizzontale quando c'era da andare in avanti solamente palle lunghe e sostanzialmente quasi sempre per Torsby quando erano per Caputo lì era binario morto perché Caputo ha completato una partita litigiosa con il mondo abbastanza rappresentativa della sua annata alla Sampdoria che non è completamente da buttare ma non è neanche completamente soddisfacente probabilmente il fatto numerico credo siano dodici i gol ora ho perso il conto perdonatemi insomma raggiunto la doppia cifra quella quello forse l'unico aspetto soddisfacente per il resto sono stati tanti passaggi a vuoto del bomber del bomber pugliese perché quando gli arrivava la palla lunga ha sistematicamente perso il duello con Niccolò Casale che lo marcava a uomo e spesso non si è inteso con i compagni e siamo a oltre tre quarti del del campionato e lui spesso cercava questa palla in profondità e tante volte gli hanno dato addosso permettendo al difensore del Verona di fare bella figura era tornato Tommaso Augello titolare sappiamo che invece con Giampaolo veniva spesso scelto Murru che andreva rimesso un po' più vicino alla linea laterale a fare all'esterno di un 433 peraltro che andreva molto molto sotto tono come in tutto il girone di ritorno anzi oggi è stato quasi un peso perché raramente è riuscito ad accendersi a crossare con continuità non è invece giocatore da battaglia notavo che sostanzialmente non va mai neanche a contestare i palloni alti di testa non ci va mai mi avrebbe perso comunque persi comunque quei duelli aerei con i colossi del Verona però però pesa un giocatore così se non rende dal punto di vista offensiva in una partita del genere non a caso il Verona nel primo tempo soprattutto nella parte iniziale del primo tempo era lì che andava a battere per cercare di mettere in difficoltà la fase difensiva della Samp insistendo sull'audi sinistra dove c'era questa specie di equivoco con Caprari che si portava via Berecensky anche Barak che in teoria partiva a mezza punta di destra ma che andava a sovraccaricare quel lato lì scendeva con tanto spazio tante volte Lazovic da lì Verona un po' di pericoli li ha creati dicevamo che andreva da una parte Sabiri una differenza evidentemente rispetto al girone d'andata dalla parte opposta partita che non mi ha convinto di Sabiri che si sta un po' sgonfiando dopo aver dato buone impressioni dal suo arrivo alla Samp troppo tenero troppe volte a terra troppe volte non all'altezza fisicamente di questi ritmi di questa intensità e di questo livello di campionato da salvare soprattutto nel primo tempo le partite di Thomas Rincon ed è una pessima notizia la sua munizione perché salterà al derby da ex ed è uno dei pochi che danno garanzie a livello di rendimento di tenuta fisica mentale di garra ovviamente ha giocato un'ottima partita da mezzala andando uscendo in pressione ma soprattutto gestendo bene i palloni che ricevevano il traffico anche in modo non banale quindi una munizione che pesa tanto la sua una senza che si farà sentire nel derby partita interlocutoria oggi di via l'altro che insomma è un po' distinto per personalità per presenza nel primo tempo soprattutto è stato Alex Ferrari che però déjà vu uscito per un problema muscolare nel secondo tempo doppia sostituzione con lui e Ugello usciti per riuscita e murro riuscita e murro sono stati i due protagonisti loro malgrado dell'episodio che poi ha permesso a Lellas di pareggiare con l'ex Gianluca Caprari lì linea messa molto male credo di aver anche visto Caputo lamentarsi con un labiale della eccessiva facilità con cui si è preso un gol su una palla lunghissima che arrivava dalla difesa del Verona quindi teoricamente un po' più facile da leggere per una difesa non è la prima volta che anche da quando è arrivato Giampaolo la linea balla e forse ci si poteva prendere qualche metro in più mi vengono in mente i gol presi con il Milan ma anche uno dei gol presi con la Juventus in cui insomma le letture potevano essere fatte meglio un po' più prudenti ecco visto il momento della partita il Verona sembrava tranquillo concedergli quella situazione là è stato è stato un difetto una pecca che alla fine si è pagata bene se non altro che il finale sia stato governato tranquillamente al netto di quella punizione concessa subito dopo il pari e per fallo di Berecensky su Caprari calciata sempre da Caprari ma finita in calcio d'angolo dopo la deviazione della barriera poi è stata la Sampdoria provare a tornare dalle parti di Montipò senza peraltro mai più impegnarlo ma lo sappiamo che è una squadra che non crea anche oggi non ha creato nulla per l'ennesima volta il rigore è arrivato grazie alla iniziativa di Caputo che è stato bravo esperto a prendersi il pestone lo step on foot da Gunter e poi andare fortunosamente anche a trasformare il calcio di rigore fondamentale capire come finire la Genoa Cagliari domani e poi faremo i calcoli in vista della prossima partita che appunto adesso però ha tutta la pressione possibile del mondo è sicuramente l'ultima spiaggia per i nostri avversari e se non lo è per la Sampdoria lo è in modo virtuale visto le ultime tre partite che ci attendono contro avversari molto più forti contro cui è difficile fare punti sempre e che saranno sicuramente molto motivati anche per raggiungere i rispettivi obiettivi grazie per essere arrivati fino a qui con questo video aspetto i vostri commenti qui sotto grazie a tutti